Qualcun astrofotografero come me sovrava di controllare il telescopio motore, perché noi precisamente conosciamo le vantaggi di operare remotamente i nostri telescopi. Questo è per questo che abbiamo sviluppato un nuovo dispositivo innovativo che permette a voi di usare Giotto Smart Flat Fill Generator come un capo motorizzato. Benvenuti a ALTO! ALTO è il motore del telescopio che abbiamo usato specificamente con Giotto, il generatore Smart Flat Fill Generator, permettendo di funzionare insieme come un capo telescopio che puoi riaprire e cercare. ALTO! ha un'elettronica integrata che funziona nativamente da un'attività di potenza di 12V, e ha un porto USB Type-C per lasciare connettervi al vostro computatore standard Windows. In questo modo puoi usare il nostro software Play Astrofotografia per controllare ALTO! O, una volta calibrato in Play, puoi usare altri software Windows 3 che supportano l'Ascom Cover Calibrator per controllare l'Ascom driver. ALTO! ha anche connessione wifi, quindi puoi controllarlo usando il tuo smartphone o tablet come un porto USB. Questo è conveniente quando vuoi controllare ALTO! senza un computer. ALTO! è designato per collegare al nostro Dove Tail Clamp, grazie alle fette di tredda che sono presenti nella parte bassa di il suo caso. Questo permette di cliccare a qualche vixen o rosmendi style Dove Tail bar per precisamente setta la posizione nel tuo telescopio. Longi barri sono già presenti in molti telescopi, come SET, Ricci Petien, etc. Ma se il tuo telescopio ha una barra più corta che non estende fino al fronte del tubo, puoi facilmente riempirlo con una più lunga e accampare il tuo ALTO! In questo modo, a prendere avanti del slot che è presente sull'alto, puoi fixare il Giotto ALTO! ALTO! viene anche con specifiche caratteristiche che abbiamo designato per migliorare il gestione del cable. Il primo è un plug di usb e 12V power pass-through che ti permettono di collegare corti usb e power cables da Giotto all'alto. L'Eagle, o invece, Windows computer, riconoscerà Giotto e ALTO come dispositivi separati e controllarli individuamente, dal vostro software astrofotografia. Anche in questo modo, hai solo bisogno di collegare l'alto con un singolo 12V power cable e USB cable a vostro computer. E per migliorare il gestione del cable management ancora più, ALTO include cable locking clips, che riconosce i suoi cable USB e power cables e lo permettono di rotare con l'alto e Giotto. In order to move Giotto flat-fill generators in very differente diametri available, ALTO is offered in 3 models, ALTO 1 is designed for Giotto up to 220 mm, ALTO 2 is designed for Giotto 255, 285, and 320 mm, and the larger ALTO 3 is designed for Giotto larger than 320 mm. If you want to automate the capture of your calibration file, or if you are searching for the best way to remotely open and close your telescope, ALTO Telescope Cover Motor is the best solution to let you use Giotto as a remotely controlled motorized cap. Giotto. 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 Giotto.